Noi abbiamo voluto raccogliere tutte queste donazioni per restaurare un'opera cara alla città che è un dipinto del XVII secolo della Madonna col bambino presente nella Basilica di Norcia perché noi crediamo che deva essere ripresa anche tutta l'attrattività turistica che dà commercio, che dà di nuovo visita, che dà di nuovo anima alla città. Io vi terei qua Giovanni Veronesi, mio conterraneo, regista, che ha curato appunto anche un cortometraggio dedicato ad Arts of Italy ed è testimonial della campagna pubblicitaria. Giovanni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, che emozione. Io non mi emoziono tanto facilmente perché insomma sono un vecchio toscano con la scorza alta così, come vedete sono vestito da marcia, sono venuto proprio per partecipare, ma entrando a Norcia oggi mi sono tremate un po' le gambe e questo è un paradosso perché insomma qui ha tremato la terra fino a poco tempo fa e a me mi sono tremate le gambe perché insomma io sono abituato a fare film comici divertenti qui non c'era niente da ridere quando sono entrato, il cuore mi ha battuto forte, ho sentito proprio l'importanza da sé qui. Uno, si parte con un bel urlo! Uno, si parte con un bel urlo! Uno, si parte con un bel urlo!